Bene ragazzi bentornati in questo nuovo episodio dello spacchettamento di Call of Duty Le Copster Abbiamo solo, solo purtroppo, 39 cripto chiavi ma prendiamo i pacchi da 10 per prendere una da 30 e ne prendiamo da 10 Cominciamo subito, vai Vediamo cosa c'è, vediamo cosa c'è, cosa c'è Buon, niente di che Vai Vai, metta la cassa Ma Niente di interessante Vai Sì, una roba po' perché Ok Andiamo adesso a bollificare Un duplicato Non ci sono duplicati Allora altro, altra cassa Vai Andiamo, 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 andiamo cosa c'è Vediamo cosa c'è Abbiamo finito Ridurre le scotte A stupo Pagamento immediato Senza eccezioni Bene, qui si conclude questo spacchettamento e ci becchiamo tutti alla prossima A stupo anche